Prima vittoria dell'Inter a San Siro, la squadra dimostra di avere fiato e rabbia per 90 minuti filati. Primo tempo è quasi tutta la ripresa sbattere la testa nella difesa del Napoli o contro la bravura di Castellini. Poi finalmente due gol negli ultimi dieci minuti. Da criticare nel Napoli la tattica troppo rinunciataria, nessuna parata di Bordon e nella ripresa da segnalare la sostituzione di Savoldi con Capone che a conti fatti è risultata dannosa. Consuete inizio dell'Inter caricata al limite della frenesia. Il Napoli si difende con ordine aiutato anche un po' da qualche errore degli avversari sotto porta. Si gioca praticamente solo nella metà campo del Napoli. Per interrompere una discesa di Oriale e Canuti Catellani rischia di infilare la sua porta con una respinta sbilenca. La pressione dell'Inter diventa massiccia verso il finire del tempo. Castellini in giornata di Vena, uscita coraggiosa sui piedi di Beccalossi che gli costa un taglio allo zigomo. Poi poco oltre grande intervento all'incrocio dei pali per fermare un tiro al volo di Pasinato che conclude una manovra di Oriali e Pedele. Nella ripresa la partita cambia quando Venicio decide di utilizzare Capone al posto di Savoldi. Nessun vantaggio con Capone che non tiene palla mentre Castellini continua a volare da un palo all'altro per salvare la rete. È il momento in cui si decide la partita. l'Inter preme senza risparmio e senza pause. Altobelli devia bene un cross di Pasinato. Castellini è sempre pronto a lottare con mani e piedi. Ancora Pasinato in azione a conferma del suo miglioramento. Sfrutta un lancio di Beccalossi e poi si fa spazio per il tiro. Castellini devia. La porta del Napoli sembra sprangata. Muraro salta sul centro di Fedele. Castellini non ci arriva ma dietro di lui ce la traversa. Muraro ci riprova palla sul palo esterno. E l'azione che precede il gol molto bello di Oriali che vediamo due volte. Tiro imprendibile che Oriali descrive così. Beh diciamo innanzitutto che ho visto Beccalossi al centro visto che c'era uno spazio abbastanza libero mi sono inserito e lui mi ha dato la palla molto bene. Mi ha affrontato Caporale con una finta l'ho sbilanciato. Poi l'ho tentato e dico che mi è venuto abbastanza bene. Comunque diciamo che è un tiro già provato. Mancano dieci minuti alla fine ma l'Inter insiste all'attacco. Va via appasinato da solo e scaraventa un rasaterra verso la rete. La palla è fuori di poco. Ma nella difesa del Napoli ci sono ormai dei cedimenti. Muraro entra in area. Caporale cerca di opporsi al dribbling ma finisce per atterrare l'avversario. L'arbitro Bergamo assegna il rigore. Altobelli ricorda così il suo tiro. Ho visto Castellini che si è piazzato in mezzo. Ho preso un po' di rincorso. Ho visto che si è spostato un po' allora l'ho messa sulla destra. Per il Napoli che non vince a San Siro da tre anni l'occasione è rimandata.